Salve amici Faccio questa breve introduzione per spiegarvi in cosa consiste questa serie Per chi conosce Dark Souls esiste una sfida che consiste nel completare i suoi capitoli senza mai salire di livello Quindi al Soul Level 1 La stessa sfida si può giocare in Salt and Sanctuary ed è questo che andrò a provare con voi Quindi ecco a voi la mia Soul Level 1 Ho da fare una premessa Come classe iniziale ho scelto il cacciatore poiché mi interessava usare le pistole Ma il cacciatore parte dal livello 3 Come ho detto la sfida si basa sul non salire di livello indipendentemente dalla classe scelta Non andrò quindi a modificare il nome della sfida Come ostacolo aggiuntivo non andrò ad utilizzare le perle nere presenti nel gioco in quanto permetterebbero di potenziarmi senza aumentare il livello Aggiungo che questa serie salvo rare eccezioni non avrà né commentari né webcam In quanto altro non è che una mia personale partita registrata nel privato e rieditata quando necessario L'eroe che andrà ad affrontare questa sfida si chiama Borg Detto il Drago Data la grande furia che egli dimostrava nel campo di battaglia Nessun nemico indipendentemente da quanto grande sarebbe infine riuscito a sopraffarlo Nessuna preda non importa quanto scaltra e veloce sarebbe riuscita a sfuggirgli Non è con la forza che si vincono le battaglie ma con astuzia e perseveranza Nessun nemico indipendenti Nessun nemico indipendenti Nessun nemico indipendenti Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.